La risposta di J. Cole, ma imbarazzante, tra l'altro visto i nostri amici e colleghi e compagni, fratelli e sorelle di Weekly Radar, ne hanno parlato, J. Cole ha ufficialmente cagato fuori dal vaso, attenzione, J. Cole ha ufficialmente cagato fuori dal vaso, velo pietoso, attenzione, velo pietoso sull'album tra dissing e barre trasfobiche. J. Cole è tornato in grande stile, per così dire, per così dire, per così dire, sì, perché il rapper, scusate, voi una parte non la vedete, sì, perché il rapper della North Carolina, riduce della misteriosamente tanto acclamato The Off-Season, no, vai, tanto acclamato, The Off-Season ci sta, non è male, è un buon mixtape, è un buon prodotto. Ha rilasciato un uomo per niente entusiasmante, mixtape, mai delete later. E forse tra i progetti, i progetti peggiori in assoluto, il rapper più di 40 minuti in Italia non spicca in niente, se non per un diss inconsistente verso la mar, qualche frase transfobica, le sue solite barre e i limiti dell'imbarazzo. Mi sa che a quelli di Weekly Radar non piace tanto J. Cole. Posso dire, io non l'ho sentito tutto, ho sentito i primi tre brani e poi Seven Minute Drill, che tra l'altro si chiama Seven Minute Drill, però dura 3 o 4 minuti, 3 o 4 minuti. Infatti dico, bro, Seven Minute Drill cos'è? Allora ho cercato su Google, Seven Minute Drill magari è tipo l'acronimo per, cosa ne so, tipo quando la campana suona per 7 minuti vuol dire che sta succedendo qualcosa, tipo un perremoto, però non ho trovato niente, quindi non lo so. La canzone è una risposta diretta like that, ho ricevuto una chiamata che qualcuno stava dissando, se vuoi delle attenzioni arrivano con le estensioni, ovvero le armi, il tuo ultimo è stato tragico, il tuo secondo ha messo la gente a dormire, ma l'hanno gasato comunque, il tuo terzo è stato il tuo massivo e quello era il tuo Prime. Cioè, solo da questo si capisce quanto J. Cole secondo me non capisce un cazzo, cioè con tutto il bene che gli posso volere, però bro, se proprio Damn secondo te è l'apice di Kendrick, secondo me no, capito bro, proprio no, proprio no. Nella sua visione, Kill Kidman City è un classico del genere, Tuppi Butterfly è un progetto noioso ma acclamato, Damn raggiunge il soprano e Mr. Morales è tragico, vabbè. Trascendo la falsità, dato il nome del successo dell'ultimo album, pare leggermente assurdo che sia proprio Giacola a dire che T-Pub sia un progetto noioso, tra l'altro. Continua a fare gli show ma è fellato off come i Simpsons, mid-bar, si può dire, una barra un po' mid questa. Ricordiamo che Kendrick con il Big Stepper Tour del suo ultimo album ha battuto il record per il tour hip hop, ecco, ecco. Guarda come fucked checkano i fratelli di Weekly Radar, bro, come fucked checkano. E poi ancora, he average in one heart verse like every three months. Questa è l'unica roba che siccome era, ci stava, che dici bro, fai un verso ogni 30 mesi o so, cioè stai fuori dalla scena. Questa scelation di idiozia c'è spazio anche per l'odio gratuito nei confronti della comunità LGBTQ. L'hanno ripreso stiene che non importa quanto maschile possa apparire un uomo trans, quella persona è connata ad essere una donna, va bene. Questo non lo so, questa non lo capita bene, cioè cringe secondo me leggere transfobicità o robe del genere forzate quando bro, cioè, ascoltiamo, ascoltere, bro mi ascolto Lil Fabris e nell'ultimo disco dice, vai, per quanto sai che magari c'è anche un po' ironia. Comunque ascoltiamo gente, perlomeno io ascolto il centro come Lil Fabris che dice, ho scoperto che il mio amico era gay e l'abbiamo cacciato via dal gruppo. Eh, cioè non mi sento qua di giudicare J.Cole. Una visione, quella di Cole, ferma il 1200 e che neanche risulta offensiva, adatta alla totale ignoranza delle parole. Evidente che l'artista non abbia idea di cosa stia parlando. Possono generare un disagio in getto e che non c'è tutto il nulla del discorso. Vabbè, qua hanno avuto a fare un po' gli indignati, un po' sforzati secondo me. Raidando l'odio per J.Cole, che ci sta, lecito. L'hanno voluto dipingere come un transfobico, cioè per me è proprio cringe sta roba, Bruno. L'artista del NC sarebbe essersi scavato la fossa da solo. Questo è un passo verso il fallimento di una carriera musicale fatta a più bassi che alti. Tu che ne pensi di trovare? Minchia, incazzati neri. Incazzati neri. Le sue solite barre elementi del rimparazzo. Quarto, for the potere. E attenzione! Mio fratello for the potere risponde nei commenti. Si vede che non avete mai ascoltato un album di J.Cole. Sì, sulla vagina lasciate stare il rap. E chi conosce un minimo J.Cole sa davvero che testa e intelligenza conosce Kendrick e ha nominato gli album per attirarlo nella tela della risposta. E sa quanto Kendrick si sente attoccato dagli album? Vabbè, è valido. Sì, comunque qua ci sono poi varie interpretazioni. Tipo, stavo... Allora, quando ho letto le barre e ascoltato il brano, ho detto boh, un po' weak, ma più che altro perché anche se non ha detto cose eclatanti Kendrick Lamar è arrivato con una... Cioè, l'ha fatto in un brano... A parte a sorpresa. Due con uno stile, una performance, un'attitude che fa parte del gioco, no? Magari alla fine il livello del dissing è lo stesso perché si sono tirati... Alla fine Kendrick Lamar a J.Cole non è che ha detto chissà cosa, no? Gli ha detto solo fanculo il Big Three, c'è solo il Big Me. Tutto il resto, la maggior parte della roba era indirizzata a Drake, no? E qua, invece, J.Cole ha voluto essere... Ha voluto un po' tastare il terreno, molti sostengono, che secondo me ci può stare, come per dire... Adesso ti mando un'altra... Cioè, nel senso, non sono andato full perché magari ho capito male io. Sì, esatto, quello sì, quello è quello che hanno detto tanti, come se si fosse sentito obbligato a farlo. Poi c'è chi sostegna, che secondo me ci sta come visione, che appunto ha fatto questa roba per tastare il terreno e vediamo... Cioè, il dissing era rivolto anche a me, io ti provoco un pochettino, dove vuoi arrivare? E poi ti ha... Cioè, nel senso, è un riscaldamento, questo è un warm-up per qualcosa di più big, oppure no? Quindi secondo me ci sta anche sta roba di buttare l'amo per vedere chi ha bocca e chi no. I pochi brani che ho sentito, un paio ci stavano però... Cioè, lontani, raga, dalla roba teso di J. Cole. Cioè, erano dei type beat, su cui lui rappava, non era... non lo sentivo un granché. Alcune volte, cioè, lui a livello di performance magari ci stava, però poi lacunava dal punto di vista... Boh, del testo, proprio... No, non del testo, della musicalità, della produzione. E niente.